Da qui vorrei uscire veramente con una persona che mi piace. Tu hai paura del fatto che lei sia mamma? Sì, un po' sì. Vabbè, ce l'avevo detto, lo sai. Ma è giusto che tu ce l'abbia, è giusto. Devo capire, cioè, i tuoi limiti sono i miei pensieri, ok? Io adesso sono arrivata a un periodo della mia vita che dico se è lui che non, lui per dire, una persona in generale, se è lui che non si avvicina a me, vuol dire che non è fatto per me, capito? Questo è per farti un esempio, non dico per te. Cioè, se tu non ti senti domani, sto parlando di te, no? All'altezza perché ho un bimbo, vuol dire che non sono giusto per te. Io non lo so, perché non l'ho mai, assolutamente. E quello che probabilmente mi spaventa è che, non potendolo vivere qua, no? Ovviamente, non lo posso conoscere qua. Cioè, non posso conoscere la sensazione, no? Mi spaventa, penso, giustamente. È giusto, è giustissimo. Io non te lo nascondo, ovviamente. Però penso sia anche giusto, no? Ce l'ho detto, è giustissimo, anzi. Però ti ripeto, quando sono in quel periodo lì, capito? So chi sono, so che cosa voglio. Cioè, se non è... Se quel passo non lo fai perché ho un bimbo, allora vuol dire che non facciamo l'uno per l'altro, eh? No, quello no, perché ti ho portato in esterna dopo tre o quattro settimane perché ci continuavo a pensare.